Polemiche dopo la visita della Sindaca Raggi al Terzo Cancello per illustrare i lavori di contenimento delle dune e gli interventi per il rispetto delle distanze sulle spiagge di Castelporziano. Peccato che invece ci si è dimenticati completamente della sicurezza dell'intero litorale, dichiarano Pier Giorgio Benvenuti e Gaetano Distaso del Movimento Eco Italia Solidale, che spiegano continuiamo a ricevere numerose segnalazioni di danneggiamenti e furti ai danni delle auto posteggiate sul lungomare, da ostia torvaglianica anche di giorno. Ci chiediamo dunque dove sono e cosa stanno facendo gli steward. Intanto per scongiurare gli atti vandalici sulle spiagge libere è stato attivato un servizio di guardiania notturna, attivo dalle 22 alle 5 del mattino tutti i giorni della settimana fino al termine della stagione balneare. Sempre per la sicurezza degli arenili, annuncia infine la Sindaca Raggi, è prevista all'installazione di 20 telecamere fisse fotovoltaiche, piazzate in punti strategici del nostro litorale e collegate alla Sala Sistema Roma della Polizia Locale.